Cresci, cresci tanto, mia bella rosettina, quanto sei carina Perché stai cantando adesso? Perché quando cantavo su Minecraft Allora, ti ho detto una cosa sola, ti ho detto Stefana, fia le piante, prenditi cura del giardino e ti trovo a cantare, ma ti sembra? Lo sto facendo, sto dando amore alle nostre bellissime rose Non le fai appassire, te lo dico, le fai appassire No, guarda come sono felici, guarda come sono felici Mie belle rosettine, siete le più carine, di tutto il vicinato Tato, tato, tato E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stef, e che stai chiamata? Scoot, Scoot Ovvero il gioco preferito di Stef, in cui potrà dimostrare anche qua le sue abilità di stuntman Sei felice? Sì, ma soprattutto le farei anche tu, cara Perché metti solo in mezzo a me, ovviamente ci divertiremo insieme Mai nella vita, no categorico Vai Allora, mi hai già torturato su GTA e sono arrabbiatissima Ok Qua non lo farai No, assolutamente sì Allora, io adesso prendo il joystick Lo spacco in terra, ci salto sopra, così non posso giocare Dai, andiamo Non è una buona soluzione anche perché costa tantissimo il joystick Non è vero? Allora, per chi non conosce il gioco, semplicemente abbiamo una moto C'è un percorso fatto proprio classico da tipo esame per prendere la moto Tranquilla Portati bene Ti sembra che se fosse un esame di guida per diventare lo stuntman migliore del mondo ti comporteresti così? Assolutamente sì Ti sembra? Lì solo se fai queste cose ti danno un bravo Eh, che cos'era quel flash? Era l'autovelox, ho fatto una foto Ah, ok Mi hanno chiesto di mettermi in posa e mi sono messo in posa Eh, ma perché sei troppo bravo? Eh, lo so, Feri Guarda che bravo, guarda che bravo Vai, 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 vai Giro tondo? Sì Sì, direi di nuovo, vai Wow, wow, wow Bravissimo, Stef, adesso di qui Ok, aiuto Ma devo rifare un altro giro? Evidentemente Due di tre No, allora devo andare molto più veloce di come sto andando Io ero tutto tranquillo Pensavo fosse più un lavoro di precisione Hai mancato E invece è un lavoro di velocità, capisci? È un lavoro sia di precisione ma anche di velocità Perché devi essere preciso Non prendere tutti gli ostacoli Però essere anche veloce a fare un buon tempo Quindi cioè è proprio difficile Però più ostacoli prendo una volta Ma non ne prendo la volta dopo Perché direttamente non ci sono più birilli Quindi potrei fare Dici che magari all'inizio Li butti tutti giù Così dopo è la strada Brava Capito? Libera Sì Non penso che funzioni in questo modo Peccato Comunque lascia perdere Lascia perdere Comunque si può proprio fare una sfida diretta tramite te Perché c'è proprio il tempo totale Allora, chi ti ha detto che io devo giocare Scusa Chi te l'ha detto No, fai per forza Cioè No, no Se vengo torturato io con un giochino del genere Allora, io già non sopporto uno stunt In più se mi metti questi giochi che fanno sclerare Io posso i miei 30 secondi che giocherò Perché di più non resisto A urlare tutto il tempo No No, non è una bella cosa Non ti vogliamo sentire urlare Nessuno ti vuole sentire urlare Quindi io non devo giocare In realtà i consolini vorrebbero come Opla Oh yes Vai, manca solo il terzo giro Fere Ma mi cadi al terzo giro? Ma mi cadi di faccia al terzo giro? Ma come si può? E Stef arriva a cannone e finisce 3 minuti e 0-1 Metti il tuo nome, così ci ricordiamo del tuo record Stef Stef il magnifico Addirittura, addirittura Sì, perché è magnifico come questo record Ok, ma adesso cosa dobbiamo fare? Perché il retrain, no grazie Mi è bastato farlo due volte Fere? No, non ci voglio giocare Guarda che brava Dai No, non ci credo No, aspetta, aspetta E ho avuto problemi Ecco qua, presa Non mi è da pazzi sto gioco Aspetta Dai, ma quello è un po' più difficile Adesso devi andare un po' dritta Tranquilla Ma io devo fare davvero tre giri Perché? Sì, perché Come fa? Aspetta, non gira Aiutami Dall'altra Fere È un bellissimo modo di prenderli in retromarcia Tu non l'hai fatto perché non sei un vero stuntman Hai visto? Hai visto come si prendono le cose Fere, non renderti più ridicola di quello che già sei Ma son bravissima Guarda la velocità Guarda, guarda la bravura Ok Perché tu non hai Fare gira Usa l'analogica gira Non gira, vedi? Ma poco dall'altra No, bisogna di fare i giri tutti nello stesso senso Perché mi distrae mentalmente altrimenti Capito? Capito? Allora, sto andando benissimo Perché mi stai prendendo in gira? Voglio chiarire ai consolini che magari ci seguono da pochi mesi E ancora non hanno notato questa cosa Fere, nicchia, grossi problemi di sinistra-destra Quindi se la telecamera costantemente si inverte Lei non capisce più quale sinistra-destra E fa queste cose bellissime Quindi divertitevi e godetevi Allora, sono specchiati i comandi Non è colpa mia Sono specchiati Ce ne hai tu specchiati Non in gioco No, sono specchiati, guarda Guarda, hai visto? Aspetta No, perché sto andando benissimo? Perché mi prendi in giro? Guarda Ho deciso di fare tutta la gara in retromarcia Vedi però, almeno in retromarcia zecchi dove girare Non vorrei dire Non so perché Forse dovrei andare sempre in retromarcia Aspetta, aspetta, aspetta Un problema Io non ci credo Non è colpa mia, ok? Ok, ok Io sono nata a Mancina Mi hanno corretto E quindi non riconosco più la destra e la sinistra Quindi non è colpa mia Sto piangendo da quanto sto ridendo Ok Sto cercando di rimanere sempre Mi stai uccidendo Ma smetti? Mi hai fatto arrabbiare Ok, bene, vado E non lo finisco più sto gioco Adesso mi schianto Tieni Così impari a prendermi in giro Stavo anche andando bene Perché mi devi prendere in giro? Cioè, sei geloso che io sono riuscita a fare il percorso in retromarcia E tu non? No, ti voglio bene No, no No, no È stato bellissimo Comunque Cavolo, ma c'è soltanto un percorsino Me ne aspettavo Almeno a giro a tre Eh, io mi aspettavo almeno a qualche livellino Invece no Invece no Vabbè, cerchiamo di farlo super veloce Va bene? Dai, un tentativo super veloce Esatto E poi si cambia gioco Ok, andiamo, 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 andiamo Perfetto Mamma mia, Steph No, se non li colpiverà un po' meglio Ok, autovelox È una buona velocità Che poi credo che dia un bonus In base a quanto sei veloce quando ci arrivi Sì, secondo me sì Non l'ho ben capito Secondo me sì Allora, non mi ricordo mai dove è questo punto Però a questo punto basta fare così Vedi Ovviamente Un po' troppo veloce Gira, non cadere, Steph Ok, bravo Allora, più o meno finisco sempre in un minuto un giro Quindi puoi tenere sotto occhio in alta destra Per capire se sta andando meglio o peggio del solito Ok Fammi sapere Secondo me sta andando peggio No, secondo me ci siamo Allora, il migliore l'hai fatto esattamente in 59 secondi Sei già a 48 Quindi hai meno di 10 secondi per finire tutto il percorso Più o meno lo pareggio Perché vedi, sono arrivato Sì, sì Uh 55 55 Ok Quindi sei fatto leggermente meglio Cerchiamo di farlo in meno di 50 Sì, sì, sì Cerchiamo di farlo in meno di 50 Vom Vom Perfetto Vai ancora velocissimo Quanto sono? Quanto sono? Eh, sei 50 No, sei troppo, 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 troppo Ah, mamma mia 58, 59 Un minuto adesso Che figuraccia Vabbè Cerchiamo allora di battere giusto il record di 3,01 Che avevo fatto Ok, concentrati per l'ultimo giro No, dai, no Chiuditi per sempre, gioco, ti odio Cresci, cresci tanto, mia bella rosettina Quanto sei carina Perché stai cantando adesso? Perché quando cantavo su Minecraft Ti ho detto una cosa sola Ti ho detto Stefana, fia le piante Prenditi cura del giardino E ti trovo a cantare Ma ti sembra? Lo sto facendo Sto dando amore Alle nostre bellissime rose No, le fai appassire Te lo dico Le fai appassire No, guarda come sono felici Guarda come sono felici Mie belle rosettine Sette le più carine Di tutto il vicinato Tatto, tatto, tatto Come potete vedere Siamo su Come si chiamava? Alchemy Garden Alchemy Garden Assomiglia molto a me Little Blacksmith Shop Però questa volta Abbiamo il nostro cortilettino Dove coltivare delle belle piante E dovremo sfruttarle Per fare delle pozzoncine Non so se qualcuno ce le compra O se ce le beviamo noi Questo non mi è ben chiaro Ce le beviamo noi Però è molto molto carino Adesso vi facciamo vedere Come funziona Praticamente Noi ce ne andiamo Carini carini In mezzo al bosco Prendiamo una Una piantina Qualsia di questo Lillium Ti piace? Molto molto Sì 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 Ce la portiamo a casa così Dentro un sacchettino Perché siamo persone Che ci tengono Alle proprie piante Beh sì Mi piacerebbe tantissimo Avere un giardino Almeno qua lo posso fare È vero Allora le mettiamo nel calderone Insieme a una pozione Aspetta Stai calma Perché non è facile mirare Iniziamo a spiegare Pozione Vai 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 E guardate la magia È giustamente una cosa magica Quindi ha dei colori molto accesi Sì E qui abbiamo creato I nostri semini Da poter piantare nel cortile Quindi facciamo delle nuove piante Penso che stiamo creando addirittura Delle nuove specie di piante Esatto Con cui poter fare delle pozioni Esattamente Perché come vedi Allora se non ho visto male La confezione del seme Gli abbiamo raccolti Che erano bianchi Adesso sono gialli Sì Quindi stiamo creando nuove piante E guardate adesso Noi innaffiamo nel punto esatto E piano piano Inizia a crescere il fiore Alla velocità della luce Dato che appunto È tutto magico Guardate Sta già sbucando Sono addirittura arancioni Più arancione che giallo Arancioni Sì sì Non si capiva dalla foto Ma lo sono Quindi guarda come stanno crescendo bene Guarda Non sta più crescendo giusto? E mi sembra proprio di No 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 Quindi adesso Cosa dovrò fare io? Si possono raccogliere Forse devo buttare un attimo questo Ehm Fere Cosa ci devo fare con questo? È bello per carità È bellissimo Bellissimo eh Però Non l'ha da dire Però che mi serve? Proviamo a buttare giù un albero Per accendere il fuoco Esatto esatto Perché adesso ti faccio vedere Che roba bellina Che possiamo fare Quindi Opla Ma con che velocità? Eh vabbè Ma siamo esperti Tagliatori di alberi Siamo più bravi a tagliare gli alberi Che annaffiare i fiori Senza dubbio Forse dovremmo cambiare lavoro E aprire magari una falegna meri Secondo te Se mettiamo un frutto insieme a una pozione C'è qualcosa di strano? Ah Proviamo dai così Bello Ma facciamo proprio il video Con gli esperimentini allora Sì perché tanto allora Mi sembra di aver capito Che l'obiettivo è quello di avere Un bel giardinetto Pieno di fiori Sì pieno di Di fiori Che nessuno può avere Esatto Quindi siccome non abbiamo Neanche dei clienti Io direi di fare tutti Gli esperimenti Esperimenti Perché dico sperimenti? Perché Perché dico sperimenti Anziché esperimenti Perché sei Oggi non so parlare Non so perché Io ve lo farò una battuta Ma non mi è uscita Non ci esce nulla oggi Esatto Oggi ci siamo svegliati Che non sappiamo parlare E quindi dicevo Voglio provare a vedere Tanta carnivora Che ci divora Vediamo Ha funzionato? No mi sa che ti ha mischiato Solo il fiore Eh però non c'è più il frutto Guarda Però io intendevo Di mischiare solo il frutto Ah solo frutto Sì Scusami Non ti avevo capito Adesso vedi Magari c'è il dubbio Che non ti abbia Mischiato bene il frutto Capito? Allora questo lo voglio A fianco all'altro Piantati Aspetta che dobbiamo mirare In un punto che gli piace Perfetto E adesso proviamo Il volo solo frutto e pozione Dai vediamo Però mi raccomando Non esageriamo Che la frutta è l'unico nostro Capito Sostentamento In questo posto Altrimenti finisce Che moriamo di fame No non si può Peccato peccato Pozione Fiore bianco Fiore rosso Ma ho un dubbio Ok Vanno messe due pozioni Perché ci sono due fiori O una sola pozione Metti le due Vai esagera Ok Abbiamo una scorta Quindi esagera E soprattutto Con un solo fiore Ma due pozioni Cambia quel fiore Non lo so Eh Vedi Abbiamo tanti dubbi Però è andato Per ora funziona Ed è già un buon risultato Che fighi Allora secondo me Gli ha mischiati Vero? Sì 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 Gli ha mischiati Quindi funziona Anche perché come si chiama Scusami Link Guarda l'effetto che fa Oh mamma mia È proprio magico Questo Che bello Vai 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 Facciamolo crescere Facciamolo crescere Guarda sta ancora crescendo Sta ancora crescendo Diventa grande Questa gigante Ancora Mamma mia Ancora Si ferma più Oh te l'ho detto A me piace A me piace A me piace È vero? Sì Magari è venuto a cercare Di combinare meglio E tra di loro Tipo uno tutto arancione Uno tutto blu Sì ma poi vedi Magari lo facciamo Nei prossimi Esatto Non sei proprio esperto Di composizioni Di piante Dei giardini Capito? Mi stai insultando E guarda se lo facessi io Finire in quelle riviste Di giardinaggio Dove fai vedere I giardini super figli Perenichi la migliore giardinessa del mondo No non esiste Giardiniera Lo so Però giardinessa Mi piaceva Io No 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 Che cavolo stai facendo Ferma Ferma Non faccio più video con te Me ne vado con Nami Ciao Nami Saluta i consolini Allora Nami dice che il momento consolini Le piace tantissimo Ed è molto felice E chiede se può dire anche le un commento Lo posso leggere il commento di Nami? Mettila giù Viva i consolini Mettila giù immediatamente Grazie Tu devi averla traumatizzata Allora Io ho scelto il video Da cui leggere i commenti oggi E non l'ho scelto casualmente Ah l'hai già scelto? Certo Ho scelto il leggimodo Dove parlo spagnolo Ok Perché tutti i consolini Hanno apprezzato il mio spagnolo bellissimo Perché consolini? Ad esempio Perché Stef sei portato per il messicano Guardate Guardate Io vorrei farli vedere così i commenti Perché così non devo No vabbè dai mettiamo anche i commenti Sì ma poi devo andare a cercarli Invece se si vedevano così Era tutto più comodo Però Eh ma purtroppo Non si vedono Comunque hanno scritto l'hashtag Stef è lo spagnolo Stef sei portato per il messicano Lo hanno apprezzato Tutti 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 È stata una cosa bellissima Alcuni hanno chiesto di farmi parlare il russo O il tedesco Il russo Ti voglio vedere con il russo Ad esempio Però Comunque Lo spagnolo L'hanno apprezzato un sacco Quindi Stef continuerà a parlare spagnolo Però cercherò di imparare almeno qualche frase tipica Direi E cercherò di farlo Qualcosa di sensato Potete cantare in spagnolo Ti prego Ti prego Stavamo riprovando un attimino Scout Scout Dato che ce l'avamo Comunque Direi che ci possiamo fermare così per questo video Speriamo che vi siano piaciuti Questi due giochini Che abbiamo scelto E provato Molto molto simpatici Scout Scout Sarebbe Che poi è Scout 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 Mi sono arreso a conto adesso Pensavo avesse le U E dicevo Sarebbe stato più carino Se avessi avuto almeno un po' di livelli Sinceramente pensavo che ce li avessi Sì 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 All'inizio del video L'avevo detto Ma poi non c'erano Quindi Bravo Stef E invece quello dei fiori Dai è un po' più Sensato A parte il fatto che Gli avrei voluti vendere i fiori Invece che tenermeli solo nel giardino No infatti vabbè Sono dei giochi entrambi Appena usciti Diciamo in alfa Quindi spero che aggiungano Dei contenuti di gioco Perché in questo sarebbero carini Appunto più livelli E nell'altro magari dei contenuti Tipo vendere i fiori Fare più cose Che era carino Un sfruttare quei fiori Esatto Era carino all'inizio Però poi diciamo Che è un po' povero Di contenuti A lungo andare Esattamente Comunque dai Ci fermiamo così Speriamo che il video Vi sia piaciuto Sondaggino per dirci Quale dei due giochi Avete preferito Tanti like sui commenti E ci fermiamo così Ragazzi se li ho scelto Lasciateci un like E se la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi di altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao